Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, i farisei infatti e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi, e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti. Quei farisei e scribi lo interrogarono «Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?» Ed egli rispose loro «Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto, questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. In vano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini.» Chiamata di nuovo alla folla, diceva loro «Ascoltatemi tutti e comprendete bene, non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro.» E diceva ai suoi discepoli «Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini escono i propositi di male. Impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo.» Parola del Signore La liturgia ci riporta, dopo questa lunga parentesi nel Vangelo di Giovanni, all'ascolto del Vangelo di Marco, il Vangelo di quest'anno. E qui ci troviamo davanti a un'altra pagina di scontro fra Gesù e i farisei e gli scribi venuti da Gerusalemme. C'è da dire che la questione che a noi può sembrare così un po' piccola, un po' parziale, invece per gli ebrei del tempo e anche oggi è una questione fondamentale, cioè la questione del puro e dell'impuro. Che cosa rende puro l'uomo e che cosa lo rende impuro? Ci sono una serie di regole all'interno dell'Antico Testamento, della legge, della Torah, che con molta minuzia e poi con tutta la tradizione seguente rabbinica indicano ciò che rende impuro. Noi diremmo ciò che fa, diciamo con il nostro linguaggio, essere in grazia di Dio o fuori dalla grazia di Dio. Ecco, Gesù, come sempre fa, imposta la questione in un altro modo. Non si tratta solo di rispettare delle regole, delle norme e per questo cita il profeta Isaia. Lo cita per quei farisei ma lo cita anche per noi, per tutti i suoi discepoli di sempre. Questo popolo mi onora con le labbra, dice Isaia, ma il suo cuore è lontano da me. Ecco, il vero problema è il cuore, è il dentro, diremmo noi. Il cuore nella Bibbia non è tanto il cuoricino, il luogo degli affetti con la freccina, dell'amore. No, il cuore è il centro della persona, è il luogo delle grandi decisioni. I pensieri del cuore, dice spesso, usa questa espressione la Bibbia, cioè il luogo dove si prendono proprio le decisioni fondamentali della persona, è il luogo dove si incontra Dio. Ecco, e allora avere il cuore lontano è il rischio di sempre, di tutti i credenti, essere dei credenti di facciata, dei credenti con le labbra, ma non dei credenti con il cuore. E allora, dice Gesù, il problema è proprio guardare dentro il proprio cuore. E diceva, non è quello che viene da fuori dell'uomo, quindi il cibo, il toccare determinate cose, il fare determinate azioni, che rende impuro l'uomo, ma è quello che esce dal cuore. Quello lo rende impuro. Impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia stoltezza, non è un elenco esaustivo evidentemente. Dice Gesù, infatti, è dal cuore degli uomini che escono i propositi di male. Ecco, allora il problema è proprio questo, la purificazione del cuore. Nella nuova alleanza è che la legge di Dio non viene più scritta su tavole di pietra, come i dieci comandamenti, le dieci parole di Mosè, ma viene scritta sul cuore, cioè diventa una legge interiore. E questa, diciamo, è la grande sfida, la grande chiamata e anche il grande dono. Far diventare i comandi di Dio, non qualcosa a cui obbedire esteriormente, non dei gesti da fare, ma un incontro interiore, un cambiamento del cuore e del modo di vedere le cose. Se noi lo chiediamo al Signore questo dono, di scriverci la sua legge nel nostro cuore, il Signore ce lo darà e ci renderà finalmente puri di cuore.